Buona giornata a tutti, qui parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. In questa trasmissione, dalle 19 alle 20, praticamente manifesterò, cioè dirò, spiegherò alcuni principi del paganesimo politeista e della stragonaria. Cioè, più che altro del paganesimo politeista, le concezioni religiose del paganesimo. Perché questo? Perché purtroppo tutta una serie di inconvenienti che ho avuto questa settimana mi hanno impedito praticamente di andare avanti col commento alle Upanisada. Quella Upanisada, la Brada Ranghiaka, che ho iniziato a commentare nei suoi sviluppi, nella sua visione che aveva fatto quel veggente. Sono riuscito ad andare avanti perché tutta una serie di condizioni mi hanno impedito di farlo. Per questo motivo ho scaricato un programma, ho scaricato un lavoro che avevo fatto per un'altra persona, esattamente quel diffamatore che abbiamo in rete, in internet. Ne ne abbiamo tanti, veramente, in quanto sono organizzati in maniera sistematica. E mi aveva chiesto per usarlo per un sito, chiaramente l'uso che ne ha fatto non mi interessa, ma il pensiero dei pagani politeisti è molto, molto difficile da strumentalizzare. Cioè, ha un suo corpo, una sua dimensione, una sua definizione. Per cui è difficile che dei diffamatori o delle persone che fanno il doppio gioco, che fingono di essere ciò che non sono, lo possano usare. Probabilmente qualcuno troverà qualcosa che io non immagino prima o dopo. Ma comunque, per il momento, ha dimostrato di essere un pensiero non strumentalizzabile. E questo mi fa abbastanza piacere. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. E andiamo avanti, perché la trasmissione sarà piuttosto corposa ed intensa, a parlare di questo. Diceva questo provocatore, il paganesimo moderno è una macro-religione che raggruppa più religioni. Alcune di queste sono a loro volta suddivise in tradizioni o sentieri. Una religione, una tradizione o un sentiero può definire se stessa pagana, moderna, se... E questo va avanti. Rispondo a questa affermazione. Iniziamo con questo. Il paganesimo moderno è caratterizzato dal sentimento di relazione fra il singolo individuo e il mondo in cui vive. Il sentimento che lega l'individuo al mondo in cui vive viene manifestato nel suo essere una persona religiosa. Ne consegue che ogni singolo individuo manifesta la forma della propria relazione con il mondo e quegli aspetti del mondo che predilige. Pertanto, il paganesimo è una religione che manifesta un infinito numero di forme con cui si presenta e descrive il proprio essere religione. Ne consegue che i vari gruppi, gruppi pagani, si formano per affinità del proprio sentire religioso fra sé e i vari aspetti del mondo. Cosa lega diversità pagane che possono essere sessiste, percezione del mondo diviso in maschile e femminile, naturali, interazione delle persone con la natura, o cosmiche, i processi di trasformazione dell'universo, o ancora sociali, dove la relazione fra l'uomo e il mondo si manifesta nella società umana? Gli strumenti che caratterizzano i sentieri di conoscenza e di formazione dell'essere persone religiose si afferma di percorrere un sentiero di conoscenza quando siamo consapevoli di trasformarci giorno dopo giorno in relazione alle nostre predilezioni. Questa trasformazione necessita di acquisizione di strumenti per essere gestita in maniera psichico-emozionale. Perché deve essere gestita? Innanzitutto perché ogni sentiero che percorriamo è vivo. Dorothy percorre un sentiero di mattoni gialli che porta a dozza. Per un pagano politeista ognuno di quei mattoni è un Dio che costruisce e trasforma se stesso proprio nel momento in cui lo calpestiamo per percorrere il nostro sentiero. In secondo luogo quel sentiero non è dentro ad una foresta muta e silente ma è all'interno di milioni di altri sentieri e percorsi che in ogni istante si intersecano e si autoinfluenzano. I pagani si accomunano e si scontrano sugli strumenti da usare nel percorrere il proprio sentiero che è diverso da soggetto a soggetto, da gruppo a gruppo, da individuo a individuo, da situazione a situazione perché il loro scopo dovrebbe, maiuscolo, essere quello di arrivare a dozza, la morte del corpo fisico sufficientemente forti per affrontare il mago o se preferite bere alla fonte di mnemosine. Succede che il paganesimo emerge da un insieme religioso qual è il monoteismo che incidendo sulla struttura psichico emotiva degli esseri umani pretende di dire agli esseri umani come devono vivere la loro vita. Pertanto anche il confronto scontro che esiste fra pagani è spesso incentrato sul modo di liberarsi da questo fardello o come porsi davanti a questo insieme. Questa è la definizione del paganesimo moderno. Pertanto il paganesimo moderno è chiaramente oggi come oggi sta emergendo da un insieme, sta emergendo da una situazione di insieme che ne sta condizionando la formazione. Per cui la situazione di insieme che è il monoteismo sta chiaramente condizionando quella che è la nascita del paganesimo come religione e come funzione. Per esempio il paganesimo antico nelle antiche religioni non aveva una definizione di male. Oggi il male per il paganesimo politevista è il cristianesimo e la sua dottrina. Cioè la dottrina del cristianesimo, la Bibbia, i Vangeli rappresentano ciò che è il male per il pagano. E non è solo per il pagano, attenzione, perché quando noi parliamo di paganesimo dobbiamo venire fuori da un equivoco. E l'equivoco è dato soprattutto dalla tradizione, cioè dal modo con cui le varie religioni diverse dai cristiani e dai cattolici si sono formate nel corso della storia. Il paganesimo non segue quei percorsi, non segue quegli itinerari. Cioè mentre le altre religioni praticamente mettevano attorno a sé dei fedeli, li organizzavano in gruppi e cercavano di dilatarsi, il paganesimo no. Il paganesimo non mette insieme le persone, è vero? Noi mettiamo insieme tutte quelle persone che ci sono vicini, i nostri amici, camminiamo insieme, facciamo delle cose insieme, abbiamo anche delle relazioni affettive con loro. Ma non è questo il modo con cui nasce il paganesimo. Il paganesimo nasce all'interno della percezione intima delle persone, delle esigenze che le persone hanno nell'affrontare la vita sociale. Per cui, data una struttura di pensiero generale che possiamo identificare all'interno della religione pagana politeista, in realtà noi abbiamo centinaia e centinaia di migliaia di persone che su tutto il territorio nazionale manifestano elementi del paganesimo, spesso qualche volta avendoli anche attinti dal paganesimo stesso. Mi dicevo un amico che ormai anche i direttori di giornali come Ezio Mauro della Repubblica o altri direttori di giornali parlano tranquillamente di paganesimo proprio per aver letto le pagine in internet, cioè aver compreso cosa significa il paganesimo nelle pagine in internet e aver compreso anche le dinamiche che avvengono nel sistema sociale in cui stiamo vivendo. Cioè praticamente le esigenze della vita sociale, della vita collettiva, portano a far rinascere il paganesimo. Noi come religione pagana politeista, come federazione pagana, naturalmente continuiamo a buttare nella massa, continuiamo a buttare in circuito i nostri ragionamenti, le nostre riflessioni, le nostre analisi della vita, le nostre analisi delle situazioni. Però da tutto quello che noi facciamo altri attingono, ma non attingono diventando pagani da federazione pagana, ma attingono le idee, attingono i modi di essere, attingono l'analisi sulla comprensione del mondo, che dopo la rielaborano. Per esempio, un Umberto Eco non scriverà mai come scrive Claudio, perché Claudio scrive da cani, Umberto Eco è un professionista della scrittura. però quando Umberto Eco arriva ad avere l'idea di Claudio, cioè arriva a leggere ciò che è Claudio, capisce esattamente quello che sto dicendo e dopo lo rielabora, lo ritrasmette in maniera diversa. Cioè il circuito, la circolazione delle idee è fatta in modo tale che ormai non è più possibile fermarla. Cioè ciò che ha fatto la federazione pagana, cioè i pagani, non è più fermabile. E ormai il concetto di paganesimo che viene interiorizzato, vissuto e analizzato da persone è il concetto di paganesimo della federazione pagana. Che piaccia o non piaccia, la federazione pagana è diventata il punto centrale della rinascita del paganesimo anche in tutte quelle persone che magari mai direbbero di partecipare alla federazione pagana. Perché la federazione pagana ha messo gratuitamente in circolo a livello di massa quelle che sono migliaia e migliaia di idee, migliaia e migliaia di modi di vedere l'esistenza. E a questa fonte, che è una fonte di mnemosine, che vi piaccia o non vi piaccia, si sono abbeverati centinaia e centinaia di persone, decine e decine di giornalisti, centinaia di professori, migliaia di studenti e hanno preso, hanno scaricato, hanno analizzato, hanno visto quello che gli piaceva. Non hanno visto tutto, ma hanno visto quello che gli serviva in quel momento. E centinaia e centinaia di persone lo hanno utilizzato nei loro lavori. Per cui, la fonte che è costruita la federazione pagana è una fonte centrale. Nello stesso tempo, le idee vengono usate in maniera diversa. Se uno è un verde, diciamo così, ha passione per la natura, chiaramente andrà alla ricerca di quell'aspetto che è più vicino a sé. Se uno è un giurista, andrà alla ricerca dell'aspetto che è più vicino a sé. Se uno è uno politico, andrà alla ricerca dell'aspetto del paganesimo che è più vicino a sé, che può usare, che può far colpo, che gli può servire in quella condizione. Però, l'importante è che questa fonte continui ad essere alimentata e il paganesimo sta nascendo in questo modo. Naturalmente, quando il paganesimo nasce in questo modo, esiste migliaia e migliaia di articoli, migliaia e migliaia di situazioni per cui altre persone chiamano se stesse pagani. Ora, io faccio gli auguri alle altre persone che seguono il loro sentiero, seguono la loro conoscenza, seguono quello che loro sentono. Però, chiaramente, quando io mi scontro con loro, pretendo la manifestazione di passione, la manifestazione della loro identità, cioè, che giustificano il loro essere persone religiose. Perché vi ricordo che in filosofia non esiste la prova scientifica di ciò che si dice se è vero o non è vero, ma esiste la capacità del soggetto dell'individuo di giustificare, di sostenere, di supportare, di provare ciò che lui sta dicendo. L'abbiamo detto oggi in trasmissione con Francesco, molte donne sono diventate streghe proprio facendo i minestroni, proprio manipolando erbe, proprio manipolando quello che è il lavoro normale di cucina. Bene, sì, questo è vero, ma è effettivamente profondamente vero, ma bisogna averne la coscienza, la consapevolezza di questo per riuscire a riprodurlo. Detto fra noi, chi è che oggi come oggi seguirebbe un percorso di stregoneria mettendosi dalla mattina alla sera a manipolare erbe, a fare minestroni, a preparare intrugli, forse un erborista, forse delle persone particolari, ma è abbastanza difficile sviluppare una via del genere. Certo che uno può anche diventare carota, può diventare cipolla, può vedere il mondo con gli occhi dell'aglio, ma è abbastanza complesso. Forse non so quanto valga la pena al giorno d'oggi come è strutturata e organizzata la società nella quale viviamo, però sta di fatto che è vero, è avvenuto così. Ora, avere consapevolezza che è avvenuto così, uno potrebbe dichiarare che questo fa parte della via della stragonaria, ma nel momento stesso in cui lo dichiara se ne assume la responsabilità, se ne assume la responsabilità di giustificarlo davanti al mondo. Ed è questo che manca fra le persone. Certo, una strega che è diventata una strega facendo un minestrone, facendo minestroni, può dichiarare che la via della stragonaria è fatta dal minestrone, ma ci vuole una strega, una donna che sia diventata strega o un uomo che sia diventato uno stragone facendo un minestrone, ma se nessun uomo, nessuna donna è diventato uno stragone facendo il minestrone, qualcuno si può sapere che ciò può avvenire, ma non lo può manifestare come via la stragonaria. Questo è un problema abbastanza complesso. Proviamo ad andare avanti alla seconda preposizione, cioè alla seconda frase che fa questo provocatore e lo chiamare così ormai. È politeista, ovvero considera l'esistenza di più entità divine. Il paganesimo dice, il paganesimo è politeista, ovvero considera l'esistenza di più entità divine, siano esse autonomi ed indipendenti o manifestazioni di pluralismo teologico, divinità che varia il nome e sesso attributi nel tempo con le stagioni o che conservano più volti d'entità a seconda delle occasioni, o in alternativa panteista. Rispondo a queste affermazioni. Qui il discorso diventa più problematico e complesso. Diventa più problematico e complesso perché i concetti elaborati sul mondo si staccano dalla parte del paganesimo, si staccano dalla filosofia classica o almeno dagli elementi che hanno caratterizzato la filosofia d'Aristote e di Platone fino ai giorni nostri. La filosofia antica, tanto per escludere l'avvento cristiano, è caratterizzata dall'idea degli dèi come enti ed oggetti del mondo fino all'avvento di Platone e dei neoplatonici che trattano gli dèi come idee prima e poi come enti manifestati dall'uno. Da queste visioni si formano molte idee pagane ma da questa visione si forma anche l'idea monoteista che poi giunge a formulare una visione panteista dove gli dèi e altri non sarebbero che aspetti dell'uno consapevole. In pratica tutta la filosofia è stata prigioniera di concetti a priori che ne hanno costretto entro stretti muri lo sviluppo della sua logica. Assistiamo ad una diversa impostazione delle antiche religioni fra quanto le antiche religioni manifestano compreso il neoplatonismo nelle eccezioni religiose degli oracoli caldaici e degli iniorfici e l'idea del divino e degli dèi che manifesta la filosofia che da Platone e Aristotele attraverso la scolastica giunge fino a noi. La contrapposizione è questa. Sono gli dèi che manifestano il mondo o è il mondo che manifesta gli dèi? Gli dèi si manifestano nel mondo al quale io assisto ma sono fuori degli oggetti del mondo o sono invece gli stessi oggetti del mondo? La logica filosofica pagana dovrebbe avere uno sviluppo logico partendo dal presupposto che tutto il movimento dell'universo tende a passare dal non cosciente o non consapevole di sé alla forma cosciente o consapevole di sé. In altre parole la caratteristica del tutto universale è quella di trasformarsi in coscienza e in consapevolezza quando la situazione incontrata lo consente e qui il meccanismo l'ho spiegato sia nel libro dell'anticristo sia nel commento della teogonia esiodea che in altre parti tutti coloro che chiamano se stesso pagani al di là di riferimento a divinità particolari ammettono l'esistenza di una pluralità divina ma il come essi le pensano queste pluralità divine così organizzano se stessi e manifestano il loro essere pagani. Quando un cristiano afferma io adoro un dio i pagani adorano molti dei io fermo tutto non accetto distinzioni quantitative se non sono supportate da distinzioni qualitative il mio modo pagano di adorare gli dei è quello di considerare me stesso un dio che agisce in un universo di dei e che partecipa al movimento universale di trasformare l'esistenza in consapevole di sé io mi considero una parte del tutto in trasformazione sia nel percorso del mio sentiero sia nel percorso del sentiero dell'insieme alle cui trasformazioni partecipa un insieme che non è visto come unico ma proprio come insieme di elementi agenti e progettanti che chiamo dei come me stesso detto questo diventano relativi sia i nomi che uso che le tradizioni a cui si fa riferimento nel paganesimo c'è appunto l'istituto dell'interpretazione dove esposte le qualità del dio di riferimento di una tradizione questo dio si vede nell'altra tradizione a quali caratteristiche quelle varianti culturali corrisponde pertanto è un pagano politeista solo colui che vede il mondo come un insieme di dei che agiscono pertanto noi non diremo mai come pagani politeisti se non discorrendo oppure se non leggendo oppure se non commentando cioè in pratica in maniera discorsiva il dio del sole come non diremo mai il dio della terra o il dio del cielo ma come pagani noi diciamo il sole è un dio la terra è un dio il cielo è un dio pertanto solo un monoteista solo un cristiano solo un musulmano può dire che una volta si adorava il dio del cielo il dio del sole il dio della terra il dio degli alberi il dio della natura in realtà i pagani dicono la terra è il dio il cielo è il dio la natura è il dio i singoli soggetti della natura sono degli dei ma il singolo pagano è consapevole di essere un dio è consapevole di avere davanti a sé un cammino di trasformazione continua per cui ciò che divide in questo caso un pagano da un monoteista non è il fatto che uno adora un solo dio o il dio del libero della Bibbia ma è il fatto che mentre il monoteista sposta la volontà della divinità fuori della materia fuori delle cose fuori degli oggetti un pagano incontra la divinità proprio manifestata dagli oggetti e dalle cose cioè sono le cose gli oggetti della divinità naturalmente per fare questa operazione il pagano deve vedere gli dei non con gli stessi occhi del monoteista cioè mentre il monoteista vede il dio che gli fa il miracolo e gli fa passare la lebra il pagano davanti alla lebra non aspetta il miracolo del dio monoteista ma si organizza il laboratorio per studiare i meccanismi e poter agire sulla malattia l'ebra naturalmente quando il pagano fa questa cosa quando la persona fa questa cosa che è un'operazione pagana cosa succede? che concentra le proprie energie concentra le proprie tensioni e la propria intelligenza e Atena interviene Atena interviene e alimenta quella che è la capacità intuitiva del soggetto o dei soggetti per risolvere il problema pertanto è il soggetto che è un dio e dice io davanti alla lebra devo trovare la soluzione io davanti a questo problema devo trovare la soluzione e nel momento stesso in cui il soggetto che si ritiene un dio che si mette in azione rispetto al problema chiaramente viene supportato dagli dei dei del mondo perché gli dei del mondo vivono perché i soggetti della natura li manifestano cioè non sono separati dagli oggetti della natura sono parte degli oggetti della natura sono gli oggetti della natura e questa è la diversità di concezione religiosa fra un pagano e un cristiano e un monoteista in generale cioè dove collochiamo la volontà d'azione la mia volontà d'azione per risolvere il problema della malaria è dentro di me la mia volontà d'azione per risolvere il problema che posso avere in fonderia domani è dentro di me e io mi organizzo per risolvere quel problema al meglio e nel momento stesso in cui io mi compatto mi concentro mi metto in tensione per risolvere il problema gli dei del mondo arrivano perché il mio problema è il loro problema è una questione empatica perché gli dei del mondo sono manifestati dagli oggetti del mondo naturalmente mi fanno anche guerra dopo questo è un altro discorso dice il provocatore che un pagano riconosce la natura divina principi sia maschile che femminile senza limitazioni teologiche rispondo io questa è una cosa a chi ha un tipo di paganesimo sessista chi divide tutto quello che esiste per il sesso che lui vi attribuisce per il mio modo di vedere il paganesimo è una cosa che mi risulta abbastanza incomprensibile buone parecchi problemi di ordine teologico per esempio l'azione di un soggetto che riconosce se stesso diverso dal circostante è quella di espandersi l'espansione può essere di ordine quantitativo che qualitativo oppure insieme questo soggetto comunque lo chiamiamo Dio la sua azione è finalizzata a crescere ed è un'azione egoistica per se stesso nel farlo modifica le condizioni oggettive permettendo e consentendo ad altre coscienze di venire in essere l'attività generatrice del Dio vedi commento al papiro di Darveni pertanto l'azione del Dio è sempre quella di costruire delle condizioni per se stesso che permettono di generare se io guardo le cose solo dal punto di vista del generale non esiste un Dio che non sia femmina e non esiste un Dio che non sia maschio prendiamo la terra è femmina o maschio prendiamo Zeus l'atmosfera è femmina o è maschio diciamo che la divisione per sessi è fatta dal singolo pagano che necessita di questa divisione come proiezione dei propri bisogni ed è comprensibile quando consideriamo che molte forme di paganesimo emergono nelle emozioni degli individui proprio per liberarsi delle costrizioni sessuali imposte dal monoteismo sono categorie che servono a questi pagani per definire il mondo in base alle loro necessità in realtà specialmente quando si parla della vicca si ha una visione abbastanza strana dal mio modo di vedere la vita e si parla essenzialmente del Dio e della Dea ora siccome io qualcosa di letteratura classica ho spulciato qua e là io conosco alcuni elementi da cui nasce il concetto del Dio della Dea e della Vicca che poi attraversano tutta quanta quella che è tutta quella che è il Medioevo diciamo così fino ad arrivare al Novecento si tratta in realtà del culto di Atis e di Cibele il culto di Atis e di Cibele arriva a Roma in epoca abbastanza tarda e i sacerdoti di Cibele avevano anche un vizietto cioè un vizietto una cosa abbastanza particolare quella di castrarsi e quando Roma si accorta di questa cosa ha detto alt fermi tutti noi accettiamo di importare il culto di Cibele a Roma ci va benissimo però prima di tutto nessun romano farà sacerdote fra da sacerdote a Cibele e si castra primo secondo massimo due sacerdoti due persone che arrivano dalla Siria noi accettiamo di importare dalla Siria il culto della madre degli dei Cibele però attenzione le regole sono queste e il vero problema è che effettivamente il culto della dea madre la madre degli dei Cibele sarebbe praticamente una trasposizione di Rea Rea vi ricordo che è la madre degli dei al di là di come viene identificata Rea vi ricordo è la terra la terra genera i suoi figli e questi figli sono praticamente quelli che sono gli dei olimpi i figli di Rea sono Zeus Poseidone Ade Era Demetra ed Estia questi sono praticamente i sei figli di Rea che Rea partorisce con Urano naturalmente l'ultimo figlio che partorisce è Zeus cioè Rea la terra l'ultimo figlio che partorisce l'atmosfera in realtà non è l'ultimo figlio che partorisce l'atmosfera ma è l'atmosfera l'ultimo figlio che si mette in moto cioè l'ultimo figlio che partorisce è quello che mette in moto tutto cioè la natura era può essere messa in moto solo perché viene partorita l'atmosfera solo quando la terra ha l'atmosfera la natura può cominciare ad agire questo è il concetto delle antiche religioni per cui Rea è la madre degli dei e viene chiamata come De Assiri anche mi sembra che ci sia anche questo nome non vorrei sbagliare comunque come Cibele viene importata a Roma e c'è questo culto un culto il culto del pino sotto questo pino sarebbe morto Attis per tutta una serie di scontri d'amore che c'erano allora e viene rappresentato con una serie di cerimonie questo pino che viene inghirlandato diviene quello che viene passato dopo l'albero di maggio e tutta una serie di tradizioni perché viene addornato con le bende con i fiori i fiori che Cibele fa nascere in onore della morte di Attis e così via pertanto questo è il culto maschile femminile cioè Attis e Cibele che viene praticamente importato attraverso il Medioevo e viene assunto fatto proprio dalla Vicca ed ha questa dimensione della bisessualità che ha un suo valore che ha una sua grossa importanza quando praticamente la regione monoteista cerca di distruggere le donne cioè praticamente le donne vengono annientate ed è una regione assolutamente maschilista faccio una parentesi c'è molto da dire sul maschilismo in realtà ha altre sfaccettature che però non voglio affrontare prendiamo la dicitura normale e comune diciamo che è una regione maschilista a quel punto come ribellione come reazione ecco che la Vicca per tutta una serie di cose nasce invece con il concetto della Dea questo concetto della Dea non è altro che Cibele e i riti di Cibele e Atis un po' modificati un po' variati però questo concetto di vedere gli dei del mondo come maschili e come femminili è un concetto che mi è abbastanza strano dal mio punto di vista per cui è una cosa che faccio molta fatica ad accettare io lo so che gli uomini tutti gli esseri della natura di essere natura i bisessuati hanno il maschile e il femminile però è una caratteristica cioè non puoi proiettare la tua dimensione la nostra dimensione umana su tutti gli oggetti del mondo per cui si va bene possiamo dare nomi maschili e nomi femminili tanto per dare dei nomi ma non è che ha una sessualità per cui il concetto di dividere gli dei Atena Atena è femminile però è vergine però cos'è la mente la mente è maschile o è femminile mensa la capacità strategica la capacità di agire per un obiettivo cos'è maschile o femminile è tutto variabile a me sta bene di usare i nomi maschili o femminili però non andrei a dargli questa grande importanza e infatti non gliela do andiamo 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 ancora avanti cosa dice questo provocatore il pagano considera la natura comprendendo anche ma non esclusivamente l'essere umano le sue capacità come una teofania una manifestazione del divino cioè non come oggetto passivamente creato dalla divinità ma come parte della divinità stessa come attributo sostanziale della divinità o addirittura parte fisica o sacra della divinità ovvero considerare il mondo terreno come il principale e più importante teatro della vita luogo dove si attua il fine massimo della spiritualità e del precetto religioso rispondo io a questo la natura è l'insieme senza il quale noi non avremmo potuto esistere è il divino che chiamò Giordano Bruno e l'intero rinascimento italiano io contesto che sia una manifestazione del divino ma la natura è un insieme di soggetti divini ed è manifestazione di una divinità come risultante dell'insieme delle divinità che la compongono e che in essa si generano e divengono so perfettamente che sto dicendo cose che anche tu pensi e vuoi dire diciamo così si tratta della traduzione della visione cosmologica e una visione cosmologica e una visione cosmologica relativa alla natura come urano stellato è l'insieme della visione cosmica che ci appare così era è l'insieme della visione della natura che ci appare solo che i singoli pianeti sono dei diversi da urano stellato con i propri sentieri di conoscenza con le singole specie così le singole specie sono diverse da era con i loro sentieri di conoscenza come per quanto riguarda gli esseri umani i singoli percorsi di conoscenza personale sono diversi dal percorso della specie pur tuttavia i percorsi sono uno dentro l'altro esattamente come il sentiero di conoscenza della mia flora batterica è dentro di me e interagisce con il mio sentiero di conoscenza integrandosi con quel sentiero di conoscenza forse quello che ci diversifica da altri pagani è la forma espositiva la forma espositiva diventa importante quando si ha un progetto verso il futuro quando ci ho cioè non si vuole liquidare il problema che l'esposizione manifesta ma quando da quell'esposizione si vuole fare un balzo verso il futuro organizzando la nostra quotidianità dove abbiamo fissato la nostra attenzione cosa ci prefiggiamo ed è il concetto di natura la natura non è altro che una strategia che ha la vita per trasformare energia vitale da inconsapevole a consapevole e sfrutta le condizioni che hanno costruito Zeus e Rea cioè l'atmosfera e la terra l'atmosfera ha agito per se stessa la terra ha agito per se stessa hanno costruito delle condizioni e sulla superficie della terra è nata questo insieme di trasformazioni continue consapevoli e che si modificano di generazione in generazione che si chiama natura e da questa natura migliaia centinaia di migliaia di specie di diversi modi con cui l'energia vitale si trasforma da inconsapevole a consapevole questo è la natura e ogni soggetto non è altro che un potenziale dio cioè un potenziale soggetto che può camminare nell'eternità dei mutamenti e vive scontri contraddizioni vive generazioni vive far figli vive soccombere alle contraddizioni vive trionfare vive della morte del proprio corpo fisico e affronta la morte del proprio corpo fisico come il suo più grande successo cioè la possibilità di trasformarsi in essere luminoso cioè una concentrazione di energia vitale che non è supportata da nessun corpo fisico per cui la vita dell'essere natura degli esseri all'interno dell'essere natura non è altro che un modo con cui hanno i singoli soggetti di essere nella pancia della madre è come se nella mia pancia ci fosse un altro Claudio che sto incubando che sto costruendo azione dopo azione scelta dopo scelta e sta crescendo dentro di me questo è il concetto dell'essere natura essere natura è una grande idea è era ed è legata a Zeus ed è una divinità spietata perché la natura ha le sue regole la natura dà opportunità a tutti ma stabilisce le regole e tre sono le regole fondamentali che era stabilito Marte la contraddizione ciò che Ilman non ha capito ancora ebbe la giovinezza e ilizia la nascita per cui in tutti questi tre soggetti abbiamo l'espressione di Venere di Afrodite e questa è una cosa che dobbiamo tenere sempre presenti pertanto come pagani i politeisti la natura la vediamo come un soggetto in movimento come un soggetto consapevole come un soggetto intelligente e nello stesso tempo all'interno di questo soggetto un infinito numero di soggetti di infinito numero di specie per quello che noi possiamo immaginare manifestano la loro intelligenza le loro strategie le loro modalità d'azione nella loro quotidianità per costruire e manifestare se stesse questo è ciò che noi vediamo nella natura e sono tutte opportunità che queste specie hanno di far nascere il corpo luminoso alla nascita del corpo fisico e la tensione che c'è all'interno di ognuno di questi esseri è quella tensione immensa enorme grandiosa che è emersa per prima dall'uovo primordiale ed è Fanete è Eros Fanete il mostro emerge dall'uovo primordiale Fanete è colui che mostra è colui che mostra dove vanno le trasformazioni la tensione che porta alle trasformazioni Fanete è l'intento della vita ed è un intento che è all'interno di tutti gli esseri della natura diciamo ancora una cosa dice questo provocatore che il paganesimo non ammette l'esistenza di un male incarnato o un bene incarnato ma li considera solo diversi volti della realtà tutti uguali degni di rispetto rispondo in effetti nel paganesimo esiste il concetto di contraddizione finalizzata a costruire la vita ma esiste anche il concetto di fusione afrodite o amore con gli oggetti del mondo e pescando dagli antichi si può prendere il concetto di contesa furente di amicizia o di persuasione la vita è fatta di successi e di fallimenti soggettivamente possiamo chiamarne alcuni beni e alcuni male alcune situazioni sono disastrose per alcune specie e queste situazioni quelle specie possono chiamarle male ma non si tratta di un concetto in sé ma di una percezione soggettiva data dal soggetto pertanto l'affermazione è in sé corretta e condivisibile anche quando indico nel cristianesimo e nel monoteismo il male assoluto non è che indico un oggetto in sé ma una serie di azioni che portano alla distruzione umana ma anche se gli uomini vengono distrutti altre specie della natura continuano nell'infinito dei mutamenti pertanto non esiste un concetto di male in sé il concetto di male in sé appartiene al monoteismo perché per il monoteismo Dio è il bene ma c'è l'uomo in strage ammazza tortura però è il bene e invece chi lo combatte è il male chi lo combatte magari vuole la libertà vuole levarsi via a sto pero addosso ma lui è il male se voi vi leggete tutti i libri dell'inquisizione vi trovate che a ogni processo l'imputato era definito il male l'orrore la distruzione in quanto di peggio ci fosse dice il provocatore nel paranesimo politista il fedele deve stabilire un rapporto diretto con la divinità anche senza lo stretto bisogno del sacerdote congrega gruppo il quale è opzionale alla fede ma necessario esclusivamente al mantenimento della memoria e del cammino e comunque non rappresenta mai un tramite in particolare poi all'interno del paganesimo moderno la stregonaria raccoglie quelle tradizioni sentieri che considerano la religione un mondo completamente orientato al fedele che inizia nel fedele e trova in esso e solo in esso il proprio senso non esiste dottrina al di fuori dell'insieme delle esperienze vivibili dal fedele la fede è quindi un'esperienza vissuta vivibile vissuta e le divinità è un'esperienza vivibile e vissuta rispondo a questa assurdità quello che indichi è il paradosso del paganesimo a differenza di ogni altra forma religiosa il paganesimo deve dimostrare anche attraverso la logica della ragione non solo l'esistenza degli dei ma anche la sua funzione attiva nella costruzione della società degli uomini in funzione dello sviluppo degli uomini non era mai accaduto nella storia ogni religione si nasconde dietro ad un mistero dell'esistenza di un trascendente al quale chiede di credere e che ritiene se stessa esentata dal dimostrare il karma la reincarnazione il paradiso l'inferno sono tutti oggetti del credere questo non può essere nel paganesimo anche se alcune persone credono nella reincarnazione o in qualcosa del genere se è possibile affermare una credenza soggettiva mediante il proprio sentimento il proprio credere difficilmente si può manifestare la stessa credenza in forma logica o razionale per gettare le basi per un insieme ideologico religioso collettivo e sociale che sia in grado di affrontare con successo sia le esigenze della società degli uomini che le analgi scientifiche del mondo moderno e questa è la sfida che i costruttori del paganesimo devono affrontare affinché i convincimenti soggettivi si trasformino in una vera e propria religione di incidenza sociale a di là di come viene pensata la stragoneria che appartiene al percorso del singolo questa ha un elemento centrale che ne caratterizza tutte le manifestazioni l'individuo che pratica stragoneria è l'individuo che pensa a se stesso come un soggetto in continua trasformazione in continuo divenire e per questo tenta di penetrare lo sconosciuto che lo circonda o i segreti del mondo la stragoneria raccoglie le tensioni di trasformazione individuale di chi tenta di oggettivarla socialmente no scusate la stragoneria raccoglie le tensioni di trasformazione individuale chi tenta di oggettivarla socialmente altro non fa che ricercare i principi comuni per trasformare gli strumenti con cui favorire i percorsi di trasformazione di altre persone la stragoneria è l'arte praticata dall'individuo per attraversare quello spazio fisico che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico e questo è quanto ho messo ieri in internet e lo potete trovare sia nella main list paganesimo di Yahoo iscrivendovi oppure accedendo al forum paganesimo che potete rintracciare cioè non c'è problema ormai è linkato anche sui motori di ricerca di Google sono risposte abbastanza brevi ad acquisiti posti da una persona che ha tentato praticamente di vedere se trovava qualcosa su cui arrampicarsi sono risposte brevi che però possono servire anche come risposta immediata a risolvere alcuni quesiti o comunque ad affrontarli perché dopo da questo si può chiaramente ampliare tutti i discorsi che si vogliono fare è sufficiente andare sia nella main list paganesimo oppure sul forum e postare le proprie domande se non si postano le domande naturalmente io do le risposte nessun problema cioè i dialoghi in realtà in internet funzionano tagliando fuori tutti quelli che sono l'organizzazione di provocatori che chiaramente fa capo a delinquenti come Scola delinquenti come Mattiazzo qui di Padova fa parte della peggior feccia criminale che esiste in questo paese e purtroppo è un dato di fatto cioè la società civile non riesce ancora a liberarsi di questa zavorra che è la Chiesa Cattolica e quello che più colpisce è che molti partiti politici sono convinti che la Chiesa Cattolica muove voti in realtà la Chiesa Cattolica non muove voti e sta subendo una debacle che è veramente incredibile ma non solo per quanto riguarda la nascita eventuale di altre religioni o del paganesimo ma sta subendo una debacle proprio al suo interno cioè l'elezione di Ratzinger a pontefice cattolico in realtà è stata una sconfitta della Chiesa Cattolica perché Ratzinger aveva una caratteristica conosciutissima cioè è un assassino inquisitore su Ratzinger pesa tutto il sangue dell'organizzazione inquisitoriale cattolica perché lui faceva quella funzione è chiaro che non metteva più la gente sul ruolo ma la sua organizzazione prima che i paesi civili riuscissero a fermare la Chiesa Cattolica lui faceva quel mestiere metteva la gente sui rovi e le idee a fondamento cioè il suo modo di essere il suo modo di porsi era quello ed era questo che Ratzinger era assolutamente inviso all'interno di moltissime persone della Chiesa Cattolica in realtà è stata una grossa sconfitta per la Chiesa Cattolica e la sconfitta la possiamo leggere anche proprio attraverso gli avvenimenti che vengono in Spagna in Canada in giro per il mondo proprio dove quello che la Chiesa Cattolica ha bisogno cioè ha bisogno di stuprare i bambini costringendoli in ginocchio e le stuprare i bambini deve porre tutta una serie di barriere all'interno della struttura emozionale umana per cui deve impedire agli uomini di manifestare se stessi e di essere liberi per se stessi chiaramente quello la Chiesa Cattolica li stanno portando via perché le società civili hanno bisogno di uomini liberi hanno bisogno di soggetti consapevoli di se stessi e capaci di affrontare la loro esistenza pertanto questa è la vera sconfitta della Chiesa Cattolica non è soltanto non è soltanto il fatto che la Chiesa Cattolica stia avendo degli scontri che gli sta perdendo in realtà c'è tutta una serie di situazioni che stanno portando a debacle di quello che è l'organza cattolica ricordo il numero di telefono 0700-700 e 0700-839 allora se qualcuno vuole chiamare vediamo un attimo pronto siamo velocissimo i nemici di Dio il rito il rito e l'egiziano che chi ha sequestra e chi ha coppato gli iracheni e in realtà i nemici di Dio per conto mio c'è il perdimento dell'umanità e in altre parole ci siamo ebrei si va bene lasciamo perdere questa roba purtroppo ciao bello ciao lasciamo un po' perdere l'attualità che stiamo cercando di evitare quelli che sono i discorsi dell'attualità so benissimo che in questo momento l'attenzione delle persone viene afferrata a quelli che sono i vari avvenimenti in giro per il mondo però ricordatevi che se voi fate un esame della vostra vita c'è sempre stato un avvenimento in giro per il mondo che ha afferrato la vostra attenzione che vi ha costretti a dare la vostra opinione che vi ha costretti ad essere coinvolto e mentre voi facevate tutto questo e mentre voi facevate tutto questo ciao carissimo ah ok ciao bello e mentre voi facevate tutto questo gli altri facevano altre cose cioè in realtà mentre voi concentrate l'attenzione su un avvenimento vi sfugge tutto l'universo che ci sta attorno e quando vi sfugge l'universo che vi sta attorno che cavolo fate vi trovate a dover dare altre opinioni il giorno dopo per un altro avvenimento ci sarà sempre qualcuno che mette una bomba ci sarà sempre qualcuno che chiamerà la crisi sociale ci sarà sempre qualcuno che chiamerà di seguire questo o quella campana ci sarà sempre e voi correte voi correte voi correte ma quello che vi corre quello che vi scappa via in realtà è il tassamertro della vita cioè la vita che vi sfugge perché non avete un tempo infinito l'essere natura vi dà un tempo vi dà una situazione vi dà una quantità di trasformazioni dopodiché non avete più tempo e la cessazione della vita avviene in qualunque momento e quando avrete inseguito tutte le campane vi resta il vuoto cioè io ricordo per esempio tanta gente che amava moltissimo la Russia amava moltissimo Stalin e oggi abbiamo visto cosa faceva Stalin che nessuno lo sapeva e si correva dietro a quelle campane altri correvano dietro ad altre campane per cui in realtà fermiamoci un attimo e proviamo un attimino a respirare e a riflettere su ciò che ci sta attorno in fondo noi viviamo in un immenso in un immenso crogiolo di dei e in quell'immenso crogiolo di dei noi costruiamo la nostra vita e la nostra esistenza e stiamo correndo talmente veloci da non vedere l'immenso che ci circonda e non abbiamo il coraggio di affrontarlo e di penetrarlo e quando la nostra vita finisce cosa abbiamo fatto del tempo e delle trasformazioni che avevamo a nostra disposizione è vero che noi viviamo all'interno di condizioni precise ma è vero che all'interno di quelle condizioni noi esercitiamo le nostre scelte e sono le nostre scelte che ci costruiscono o ci distruggono io vi do appuntamento per giovedì prossimo ricordo che sono Claudio Simeoni meccanico apprendista Stragone guardiano dell'anticristo il mio indirizzo è piazzale promesano Otto Marghera l'indirizzo dell'istituto mediterraneo sui poeteisti è casella postale 53 Marostico Vicenza ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo ciao ciao